Professore, giriamo la telecamera e rivolgiamola verso l'aula. 55 applausi, se lo aspettava? Guardi, sì, questi applausi si dividono in due o forse tre categorie. C'erano applausi di consenso e il consenso più forte era quello sui problemi della magistratura. Poi c'erano applausi, come dire, liberatori in qualche modo. Abbiamo trovato la soluzione, siamo stati qui a soggiornare a Montecitorio per 5-6 giorni. Finalmente abbiamo la soluzione e viva, siamo arrivati al traguardo. Ecco, secondo me gli applausi erano divisi in queste due categorie principali. E poi c'erano, se mi consente, un po' di applausi ipocriti. Che erano quelli di... Vorrei sapere quali sono. Eh già, certo di sì. No, 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 ipocriti nel contenuto, non nella provenienza. Le faccio un esempio. Quando il Presidente ha giustamente ricordato la crisi della rappresentanza, ha messo l'accento sulla democrazia, non si riferiva per caso al scasso radicamento sociale degli attuali partiti? Certo, certo. Non voleva forse dire che le attuali forze politiche non hanno una sufficiente offerta politica tanto da attrarre l'elettorato, pensi al numero degli iscritti ai partiti, al ricorso a persone esterne ai partiti per le cariche pubbliche, pensi al numero dei votanti, la percentuale dei votanti rispetto agli aumenti diritto al voto. Beh, questi erano applausi ipocriti perché, come dire, si dovevano battere il petto. Allora mi verrebbe da dire, figuriamoci quanto erano ancora più ipocriti, visto che qui almeno il tono era benevolo, e quando, diciamo, nove anni fa, sì, nove anni fa, abbiamo assistito al discorso di Napolitano, no? E lì pure arrivarono, arrivò questa stessa tipologia di applauso, possiamo dire, ma il tono di Napolitano era decisamente più aggressivo, è corretto, professore? Perfettamente d'accordo sulla diagnosi. Sì, quello era il contesto. Quindi lei dice, ci sono state varie tipologie di apprezzamento, ma alcuni di quegli applausi non hanno fino in fondo capito che il messaggio era per loro e non era un bel messaggio. Le chiedo, a proposito...